Mi c-c-c-come with me Bella ragazzi, qui Alex Fucci insieme a... Cyber Hornet Siamo... Nel nostro... Con calma, alziamo la mano Sono io, grazie Dai Allora, siamo qui oggi riuniti per celebrare Siamo qui oggi riuniti insieme a Cyber Hornet Per ringraziare innanzitutto un po' di persone Posso farlo io, dai Allora, innanzitutto gli avvenimenti di ieri Tra cui anche la chat molto lunga Con Zombie Best, ragazzi Un mito, se non lo conoscete Andatelo a vedere perché ha 25.000 iscritti appena compiuti Uri, insomma Fa anche parte di Wanya Di Zombie Experience, insomma È un boss E praticamente Come dire, ci abbiamo accettato molto per Riguardo al torneo per parlare Perché non so bene la faccenda Ma dovrebbe avercelo mandato l'elgato come sponsor ufficiale o no? No, l'ho fatto io L'hai fatto tu, l'hai invitato tu? Sì Non era mica? Boh Ragazzi Alex Puccio sa tutto qua del torneo Io sono nel grafico Però volevo dire che Gli aggiornamenti stavamo dicendo Grazie a Zombie Best Che ci ha gentilmente pubblicizzato sulla sua pagina Abbiamo ricevuto praticamente un sacco di nuove visite al torneo Vai avanti Alex Sì, diciamo che in tre ore, in una media di tre ore abbiamo ricevuto 70 iscrizioni al torneo Ci siamo fatti di quelle risate perché Certe domande fatte da gente appena arrivata Proprio ci spiazzavano Rimanerevamo lì a ridere mentre provavamo a rispondere Sì, infatti siamo andati avanti fino alle 11 di sera solo per voi ragazzi A rispondere alle vostre domande super intelligenti Con tutto il nostro amore Poi anche la velocità della luce perché Tra i momenti facevamo un collasso Un collasso mentale perché C'erano così tante robe a cui rispondere da vedere Che proprio, vabbè Sì, sì Altro, il sito Allora, il sito, se quella merda di THK si sveglia Che ti devo far modificare un po' di roba Comunque il sito dovrete Adesso vi aggiungeremo un slot come iscriversi Perché molti l'hanno scritto Dio banana, il microfono Cazzo che succede Scusate ragazzi, è caduto il microfono Comunque Però andateci su questo sito perché Continuano a chiederci le regole così Le date sono meglio descritte sul gruppo perché sono più facilmente aggiornabili Però No ma ci sono anche nel sito perché sotto ogni torneo Se voi ad esempio andate su Call of Duty Sotto l'immagine ci è scritto 23 giugno 30 giugno e 31 giugno E sono le date Gli orari Gli orari li abbiamo fissati Dal lunedì al venerdì Dalle 6 e mezza in su Cioè fino avanti Almeno fino all'8 e mezza ragazzi dovete essere disponibili E poi dal sabato alla domenica Vi comunicheremo gli orari il giorno prima E poi, vabbè Così per dire Le immagini del torneo Che Archino non lo sapesse ancora Le ha fatte tutte il tizio che sta parlando adesso Sì Brutta gente che si rifiuta di lavorare solo perché sta male Oh senti io sono stato colpito da Una pisellata Perciò non ho potuto Appunto Lì ero così freddi alla prossima volta di andarci piano con i giochetti Perché poi se mi fai stare male Ci lasci nella merda A parte le cazzate ragazzi Comunque Adesso Adesso The Axe è in linea PHK Aggiungilo che fa un saluto anche lui Solo che chi è che lo registra Boh nessuno Invitalo Allora comunque PHK con la merda Deve Aggiungere Una sezione Iscrizioni Perché ho visto che avete chiesto molto A Di zombie Come iscriversi Ce lo siamo dimenticati Benissimo Però Pensavamo che era intuitivo Invece per molta gente Non lo è E quindi È meglio farla Anche perché Adesso in questo preciso istante Il giocatore più forte d'Italia SaviUltras90 Ci sta per sponsorizzare Sulla pagina Sulla sua pagina Facebook Non SaviUltras90 Quella di COD Che ha più di 9400 like E quindi Pure SaviUltras Ragazzi Prima The Face Game Poi L'Eligato Poi ZombieBest Proprio ragazzi È un torno Noi eravamo partiti Con l'idea di fare un torno Allora Chi noi Io Tu Tu appunto Poi È proprio Un torno Ma anche piccolo Non ci aspettavamo Di fare queste proporzioni Cioè È ancora Come dire Un po' piccolo Però è il più grande d'Italia Sì sì Pensiamo di arrivare Entro la seconda edizione Di Play Game Durante l'anno Lo faremo O vediamo Vediamo Sì Comincia a completarla prima Sarà un casino Appena iniziano i tornei Secondo me Già io non potrò esserci E vi seguirò Dalla luna Sì no Ma ce lo siamo organizzati bene Comunque Penso che nella seconda edizione Che si aggira a settembre Penso di riuscire ad arrivare a mille membri Così da farvi avere i big I big premi Big premi ragazzi C'è già un Elgato Che va spetta Aspetta Savi Ult Ma dato che Suppongo che ce l'abbia già Lo regalerà No Allora Sentite Le cose sono così Io l'ho detto Caro amico mio Savi Tu Io ti faccio partecipare Ma devi rinunciare il premio Perché tu sei un fottutissimo Progamer Ecco Bravissimo Ale Credendo che è sputtanato Sono già Nove minuti e mezzo Che stiamo chattando Così Sì sì no Però fammi fine il discorso Io l'ho detto così E lui mi fa Sì sì Vai tranquillo Se vinco io il torneo Lo do al secondo E quindi Boh Va benissimo Quindi ragazzi State tranquilli Potete affrontare Savi Ultras 90 Con serenità Lo batterete Tanto lui non vi dirà niente Tanto tutti riescono a battere Se lo battete Non è che non vi dirà Tanto niente Il leggero vaffanculo Ci scappa Però vabbè No no Savi è bravo Comunque Adesso Dovremmo Ieri Ho ricevuto un'email Dei Guagna Tra l'altro Che dicendo che No Leggato ha contattato Iguagna Dicendo di sponsorizzare Il mio torneo Però Non ho ancora visto Ombra Di sponsorizzazione Quindi O Le Iguagna Mi stavano pigliando Per il culo O c'è qualcosa Che non quadra C'è qualcosa Ebbene Sai come è l'altro Il famoso Stressante Sì ok Ma se Ti dice Se un'azienda internazionale Diciamo mondiale Come nel gatto Ti dice Sponsorizza una cosa Tu lo fai punto e basta Senza dire Perché poi Perché poi potresti avere Piccoli favori Diciamoli così Per non Per non andare troppo Su sconcio Siamo appena Abbiamo appena raggiunto Il live La quota dei 151 membri Ragazzi Un applauso Musica DJ Dobbiamo continuare a fare Accetta 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 Stamattina Mi sono svegliato Erano lì in otto Da accettare Sì Il bello è che io Il bello è che io Lascio il telefono Collegato Collegato La notte No Stamattina Mi sono svegliato 30 notifiche Zocco Ci ho messo 10 minuti Solo per vederle tutte Vabbè Comunque Bando le ciance Ragazzi Qua il video Si sta concludendo Benissimo Ringraziamo Tutti per la nostra Collaborazione Tutti i vari The Face Game A proposito Adesso ti Parleremo bene Con Tibu Perché Ci siamo Proprio meno Messi d'accordo Per trasmettere Il torneo Anche su social game Quindi ragazzi Preparatevi Cosa C'era in giro La voce Che era fallita No Face Game Cioè Come cazzo si chiama Il sito Tipo Facebook Dei videogiochi Ha detto che Più o meno Te la chiuderà Tra un po' Hanno detto Però Non si sa ancora niente Perché Ricordatevi Io faccio Adesso grafiche Con serie Con i big money Per i big money Per i big money Però adesso Per i big money Perciò Dato che le faccio pagamento È un presto ancora più alto Per farmele fare bene Qua ci sta la bella canzone Because the money Money Because the money Money Possiamo stare Grazie a tutte le puttinate varie Ora siamo qua Ragazzi Alex Finisci tu Sì Un saluto da Alex Fuccio E da Cyber Hornet Anche la THK In seconda persona Che è qua sotto Che chat Ci vediamo Al prossimo video Bella ragazzi Restate Pintonizzati Per avere tutte le notifiche Ciao 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 Grazie a tutti.